Luca cosa ne pensi di Cro? A quanto può arrivare secondo te? Se per la seconda domanda c'è la nostra fidata sfera di cristallo per la prima possiamo fare una bella analisi fondamentale nell'ultimo video vi è piaciuta molto la parentesi di analisi fondamentale sui layer 0, 1 e 2 se vi interessa vederlo ve lo lascio qui perché siamo andati a domandarci quale può essere il loro valore intrinseco e come calcolarlo quindi trovare dei parametri che ci aiutino a capire cosa genera domanda e cosa genera offerta nei confronti di tali token oggi mi piacerebbe fare la stessa cosa riguardo a Cro quindi prendere Cro come caso studio e domandarci perché un utente dovrebbe acquistare e o detenere Cro e dall'altra parte quanti Cro vengono continuamente messi a mercato come inflazione e cos'è che potrebbe generare pressione in vendita invece che si contrappone chiaramente alla domanda in Cro verso Cro quindi andare a esaminare la tokenomics ma non solo perché anche domanda e offerta sono ciò che pesa di più sul valore intrinseco della coin in particolare uno step molto utile in più che si può fare e andare a domandarsi quali parametri possiamo oggettivamente misurare e utilizzare come variabili sulle quali modellare un calcolo una stima di questo valore intrinseco nonché proiettarlo nel tempo proiettarlo nel futuro in particolare perché ci interessa sapere se questo valore intrinseco potrà crescere oppure no quindi anche questo vorrei prenderlo questo specifico caso studio come un caso estremamente concreto e appunto specifico per andare a studiare ancora un po' l'analisi fondamentale la tokenomics del mondo cripto il token Cro nato come token e poi in realtà diventato una coin è un caso interessante perché l'abbiamo menzionato anche nei layer one in quanto al momento Cro è la coin nativa di due chain sia la crypto.org che la chronos chain entrambe nate da crypto.com in precedenza era un token IRC20 che faceva le veci dello utility token dell'ecosistema crypto.com quindi è un caso studio ancora più interessante perché fa parte di quelle coin ibride in parte che possiamo andarle a definire exchange coin quindi gli utility token appunto di un ecosistema di un'azienda crypto.com e dall'altra parte invece come coin nativa di ben due layer one neanche uno abbiamo quindi una bella un bel key study da approfondire che ci insegnerà tanto buonasera amici crypto investitori e ben ritrovati a tutti quanti un accenno ve l'ho già fatto quindi crypto.org e chronos sono le chain crypto.com è l'ecosistema e Cro cerca di catturare valore dalla crescita sia di uno che dell'altro come cerca di catturare valore abbiamo delle bellissime slide a sostegno che ci aiuteranno a rispondere a questa domanda le slide le andiamo a vedere tra pochissimo e ve le lascio scaricabili gratuitamente dal link che trovate in descrizione apro chiedendo una cosa a voi cosa ne pensate di Cro ci state investendo ci volete investire come lo vedete in futuro rispetto magari anche ai competitor che sono bnb e ftp quelli principali fatemelo sapere nei commenti così ne discutiamo adesso basta chiacchiere e andiamo a vedere le nostre slide e approfondiamo i driver di domanda offerta e la tokenomics quindi il valore intrinseco di Cro così vediamo se è un buon investimento oppure no ma quindi Cro è un buon investimento oppure no visto che più o meno ad ogni live mi fate questa domanda ho pensato che poteva essere un'idea carina farci un video dedicato così rispondiamo una volta per tutte per rispondere come dicevamo nei primi minuti di video andiamo ad analizzare ciò che va a dare valore intrinseco a questa coin e come potrebbe cambiare nel futuro partiamo da quelli che sono i driver di domanda nei confronti del della coin Cro ovvero rispondiamo alla domanda perché acquistare e detenere Cro andiamo a vedere quindi i vantaggi che si ottengono lato exchange app e mondocripto.com che abbiamo detto è uno dei due principali casi d'uso e in seconda battuta andiamo a vedere cosa ci si può fare sulla chain Cronos e Crypto.org Crypto.org possiamo quasi trascurarla perché di fatto c'è soltanto lo staking mentre su Cronos c'è tutto il mondo DeFi quindi il grosso dell'attività è lì per semplicità ripeto la Crypto.org possiamo chiudere un occhio non va a cambiare molti risultati partiamo però per ordine con il servizio che è ciò che ha fatto conoscere secondo me Crypto.com al grande pubblico ovvero la sua carta la carta Crypto.com è quella che permette di ottenere cashback in Cro nonché il rimborso di Netflix, Spotify e altri servizi in base al livello di premium che abbiamo un livello di premium più alto richiede un vincolo attenzione non una spesa un vincolo per sei mesi almeno di una certa somma di Cro questa somma di Cro attualmente è definita in valuta fiat quindi in euro o in dollari prima era definita in Cro se volete il mio parere il cambiare questo livello da Cro a valuta fiat ha contribuito a stabilizzare un po' il valore di Cro perché se Cro dovesse scendere di prezzo c'è un incentivo a acquistarlo e magari a metterlo in vincolo per un tot di mesi per ottenere la carta per come una sorta di non so investimento anche a medio termine a lungo termine uno è più contento di farlo a prezzo più basso in sostanza mentre quando il prezzo aumenta c'è magari meno domanda di nuove carte al momento nonché se è terminato se sono terminati sei mesi di stake ci può essere l'incentivo a fare cash out parziale e rimettere in staking una pari quantità in euro in valuta fiat di Cro per andare a rinnovare lo stesso livello di premium o magari c'è anche qualcuno che dice sa ho guadagnato facciamo che salgo di livello premium sfruttando l'aumento di prezzo di Cro sta di fatto che si è introdotta secondo me una sorta di lo chiamo arbitraggio non è corretto come termine però io credo che sia uno stabilizzatore del prezzo infatti il mercato lo ha preso abbastanza bene il livello di premium ve l'ho detto richiede una diversa quantità di Cro da vincolare quindi in sostanza maggior domanda c'è per la carta premium in particolare per i livelli alti maggiore sarà il numero di Cro che vengono vincolati il fatto che si è introdotta anche questa dinamica dei Cro in euro fa sì che se in futuro supponiamo uno dovesse decidere di non rinnovarla più e magari aveva una grande quantità di Cro perché c'era una quantità fissa di Cro da vincolare e nel frattempo è salito molto di prezzo c'è il rischio che questo vada a impattare molto lato offerta quindi dei grossi cash out di coloro che magari hanno la carta da tempo andando invece a creare questo vincolo in euro in valuta fiat si va a diluire un po' di più quindi ripeto secondo me è stata una mossa ben pensata azzeccata come ammortizzatore e stabilizzatore del prezzo il discorso del lock per sei mesi crea una domanda perché comunque vanno acquistati a mercato e tenuti fermi lì e anche una potenziale riduzione dell'offerta perché questi appunto vanno vincolati vengono tolti dall'offerta liquida questo però anche lo vedremo lato offerta crea una potenziale selling pressure perché se dovesse avvenire un qualcosa che fa sì che improvvisamente molti utenti decidono di non voler più fare la carta perché diminuisce il cash back perché escludono certe categorie importanti perché tolgono dei vantaggi e così via magari ci può essere una vendita importante complessiva cioè di molti utenti che decidono di non rinnovarla più e quindi andare a impattare negativamente sul prezzo questo è importante cioè secondo me la carta premium è uno dei fattori che influisce di più ora come ora su quello che può essere il valore intrinseco di cro cioè se la carta premium riesce sempre a mantenere i suoi vantaggi o magari addirittura ad aumentarli e a essere migliore della concorrenza questo impatterà positivamente se al contrario succede qualcosa di imprevisto cambia qualcosa e la carta perde use cases questo potrebbe impattare molto negativamente in particolare proprio potrebbe creare anche un dump localizzato perché in molti decidono basta faccio un stake e vendo quindi questo crea una sacca di possibile selling pressure ma anche di rimozione della liquidità un po' un'arma a doppio taglio bisogna giocarsela bene EARN che è il prodotto di rendita passiva sulle crypto di Crypto.com anch'esso dà una rendita diversa in base sempre al livello di carta premium quindi lo possiamo includere al suo interno di fatto chi è un grande utilizzatore di EARN sarà incentivato a fare una carta premium di livello più alto e quindi facciamo che appunto sono fan parte di questa sacca perché anche lì il discorso è di vincolo per sei mesi vantaggi su exchange quindi questa è la cosa più facile del mondo nel senso le fee ridotte tutti i classici vantaggi di chi utilizza la coin nativa sull'exchange per pagare le fee chi ne ha una certa quantità e la mette in stake perché anche sull'exchange si può mettere in stake ci sono tutta una serie di vantaggi quindi di fatto gli utilizzatori accaniti dell'exchange di Crypto.com saranno incentivati a detenere CRO per ottenere appunto questi vantaggi Supercharger e Syndicate questi sono due programmi che Supercharger permette di utilizzare i propri CRO per ottenere una rendita in altri token molto ben pensata così non si diluisce cro e di fatto è una sorta di farming nel senso tu vincoli CRO sull'app o sull'exchange vincoli è sbagliato perché in realtà li metti e togli quando vuoi però li utilizzi per generare rendita questo è un modo intelligente da parte di Crypto.com per incentivare a non vendere magari CRO che si ottengono come cashback che si ha in eccesso che si tiene lì liquidi per qualche motivo perché ti dice guarda che ci puoi ottenere una rendita anche su altre coin e altri token quindi non venderli tienili lì che sono comunque un asset che genera dell'attivo un asset produttivo il syndicate stessa cosa è un po' più complicato ma di fatto permette di ottenere di acquistare delle crypto a metà prezzo con un'allocazione variabile in base a quanti CRO si hanno e di fatto quindi va a giovare ai grandi detentori quindi più se ne detengono e più si ha anche questo vantaggio e questo è un po' il mondo Crypto.com abbiamo visto App quindi Earn e Carta e Exchange c'è anche Crypto.com Pay in realtà che va a premiare in qualche modo chi ha i CRO però secondo me l'impatto ora come ora è ancora abbastanza basso rispetto a questi prodotti che invece sono di ampio consumo venendo invece alle alle chain abbiamo la Cronos Chain sulla quale CRO è la gas fee quindi è l'equivalente di ETH per Ethereum di fatto se si vuole utilizzare sviluppare sulla Cronos Chain occorre avere CRO da spendere come gas fee per l'appunto per interagire con gli smart contract per caricar, deployare smart contract sulla chain per fare qualsiasi transazione quindi maggiore all'utilizzo della Cronos Chain e maggiore sarà la domanda di CRO banale banale questo è il discorso layer 1 che facevamo la scorsa volta poi collaterale su DeFi Cronos e Crypto.com quindi il poter utilizzare CRO come collaterale come l'abbiamo chiamato nell'ultima puntata del corso DeFi quando abbiamo detto che alla base di una strategia DeFi ci deve essere un obiettivo di asset da voler accumulare abbiamo definito asset Apex quindi quelli di massimo livello quegli asset che sono pieni di valore intrinseco nonché utilizzabili come collaterale sulle varie piattaforme DeFi come può essere Ether come può essere Luna o WBTC o le versioni wrappate su varie chain di BTC le utilizzo a collaterale per prenderci dei prestiti contro quindi per borroware altro e metterle a rendita poi la rendita la rivado a inserire sul collaterale stesso per aumentare la quantità l'obiettivo mio è accumulare proprio quegli Apex asset lo stesso può valere per CRO se io penso che abbia del gran valore e se è utilizzabile come collaterale sulla DeFi Cronos abbiamo adesso il Money Market Tectonic che permette di farlo la DeFi su Cronos è ancora in uno stadio iniziale ma ci sono tanti progetti in arrivo e quindi i casi d'uso per CRO anche in quel caso lì possono crescere se ciò accade il valore di CRO chiaramente ne risente positivamente infine cashback e earn questo l'ho messo per ultimo non ha a che fare con le chain di Crypto.com ma di nuovo con l'app e l'ecosistema in cui hai utility il cashback non so se qualcuno di voi si è mai chiesto ma da dove arriva sto benedetto cashback ma vengono generati dal nulla quei CRO in realtà no sono CRO posseduti da Crypto.com quindi nei loro wallet oppure acquistati a mercato quindi non si vanno a creare nuovi CRO e a generare inflazione per dare il cashback e l'earn anche a chi ottiene earn su CRO ma vengono acquistati a mercato da Crypto.com e dati a chi ottiene il cashback quindi paradossalmente non generano offerta bensì domanda perché vengono ripeto acquistati a mercato non sono generati dal nulla ma vengono portati via dal mercato poi chiaro è che se uno se tutti non appena ottengono un cashback lo dampano è un gioco a somma zero anzi se arrivano dalle tasche di Crypto.com e vengono droppati come cashback e poi dampati non è sicuramente positivo sull'impatto sul prezzo di CRO ecco ma se c'è comunque una percezione di valore e il cashback non viene dampato o comunque viene dampato una parte relativamente piccola allora il problema non si pone anzi è un gioco a somma positiva perché i CRO vengono acquistati a mercato e ciò impatta positivamente sul suo prezzo e anche lasciatemelo dire sulla sua decentralizzazione perché gli utenti della carta sono veramente veramente tanti adesso passiamo invece all'altro lato della medaglia ovvero l'offerta quindi la tokenomics di CRO come funziona esattamente quanti CRO ci sono in giro e come sono distribuiti allora inizialmente ce n'erano 100 miliardi poi c'è stato fatto un mega burn non so se vi ricordate di 70 miliardi di CRO e la supply dopo il burn è rimasta come vedete qua sotto quindi qui avevamo la parte totale quindi una capital reserve community distribuzioni incentivi eccetera questi sono stati completamente bruciati quindi non ce ne sono più ecosystem grants cosa vuol dire vuol dire quel 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 capitale dedicato a chi vuole sviluppare qualcosa su CRO e si applica per avere un incentivo quindi per avere una sorta di finanziamento e Crypto.com decide di darglielo e lo paga quindi appunto in CRO è un win-win perché di fatto è come un investire su qualcuno che vuole sviluppare nel tuo ecosistema per generare valore poi per tutto l'ecosistema comunque il 96% di ciò è stato bruciato il restante 4% quindi 0,9 miliardi di CRO sono stati allocati a Particle B che è proprio questa società che si occupa di dare grant agli sviluppatori nell'ecosistema Crypto.com infine gli incentivi di staking perché di fatto CRO si ottiene è un proof of stake sono tutte chain proof of stake sia la Crypto.org che la Kronos chain con sapete create con la Cosmos SDK e Tendermind come consenso e di fatto lo staking proviene da qui quindi abbiamo un 5 billions di CRO allocati alle Block Rewards quindi vengono dati in staking non vengono generati dal nulla ma vengono sbloccati quindi supponete che sono in una cassaforte e vengono sbloccati blocco dopo blocco quindi questa è l'offerta adesso andiamo a vedere i driver dell'offerta quindi cos'è che genera maggior offerta o minore offerta allora l'inflazione quindi staking rewards in realtà non è un'offerta vera e propria perché cioè oddio si è un'offerta ma non è un'inflazione vera e propria perché non vengono creati nuovi token ma solo sbloccati ve l'ho detto sono in questa cassaforte e un po' alla volta vengono sbloccati e immessi in circolo di fatto è offerta perché si va a dare nuova liquidità in mano agli staker che hanno validato i blocchi poi saranno loro a decidere se vendere o no e la potenziale vendita esiste poi abbiamo il cash out di cash back e ricompense e la rinuncia carta premium perché l'ho messa nell'offerta in realtà non è che va a cambiare le tokenomics però ne abbiamo parlato prima il discorso della carta premium va a creare un vincolo quindi va a portare via liquidità è un po' come il discorso dell'inflazione al contrario se in tanti decidono di fare la carta premium questi tanti andranno a bloccare per sei mesi i loro cro togliendoli dal mercato scaduti questi sei mesi c'è il potenziale di fare l'operazione inversa quindi di reimmettere a mercato questi cro è come ci fosse un'altra piccola cassaforte che contiene tutti i cro di chi ha messo in staking di chi li ha messi in staking per ottenere la carta e potenzialmente dopo sei mesi questa si può aprire e si può svuotare a mercato impattando sull'offerta lo stesso si può dire per il cash back e le ricompense se qualcuno decide di fare cash out perché percepisce un valore comunque di cro decrescente nel tempo o costante o comunque non gliene frega niente può decidere di fare continuamente cash out e questo crea selling pressure quindi il grosso della selling pressure al di là chiaramente della speculazione quindi del valore percepito futuro è dato proprio da questo quindi la rinuncia alla carta premium perché vengono decrementate le ricompense viene fatto qualcosa che non piace e che può impattare parecchio come abbiamo visto e il cash out del cash back e delle ricompense questi sono i principali fattori se quindi andiamo a fare una bilancia del valore dove abbiamo domande offerta cosa possiamo dire in ultimo quindi facendo un'analisi di ancora più alto livello la domanda abbiamo visto che viene generata da carta premium exchange quindi più persone vogliono questi vantaggi e più c'è domanda supercharger syndicate gas fee su kronos chain collaterale su defy kronos e cash back e earn che fa acquistare a mercato quindi un numero maggiore di utenti che utilizza crypto.com va a generare maggior domanda per cro più carte premium mantenute fatte e mantenute vuol dire più domanda per cro un maggior utilizzo dell'ecosistema quindi maggiori volumi sull'exchange maggior numero di transazioni con le carte maggior volume in liquidità in partecipazione a supercharger e syndicate uguale maggior domanda di cro incremento del numero di transazioni del tvl uguale maggior utilizzo della kronos chain uguale maggiore domanda di cro quindi è interessante che ci siano tanti fattori anche indipendenti tra loro alcuni come la kronos chain e il resto che vanno a partecipare al mantenimento della domanda di cro c'è da dire che abbiamo alcuni fattori importanti da tenere in considerazione perché se guardiamo l'offerta abbiamo ripeto decremento numero di carte premium mantenute che potrebbe andare a vomitare sul mercato una parte importante del numero di cro che al momento sono vincolati se pensate al non so quante carte possono aver creato vuol dire il tenere vincolata una sacca importante di cro che se anche in percentuale non troppo alta venisse vomitata a mercato impatterebbe notevolmente poi abbiamo l'inflazione da staking inflazione tra virgolette perché è un unlock e la selling pressure di particle b che vabbè è minima cioè se concedono un grant a qualche sviluppatore quello sviluppatore comunque venderà per valuta fiat per pagarsi lo sviluppo stesso è questa la sua utilità e però ripeto impatta molto poco rispetto al resto la parte importante sono ho messo anche l'asterisco le carte premium perché abbiamo una dipendenza sia della domanda che dell'offerta cioè se questa cosa viene gestita bene si riesce a generare più domande e a limitare l'offerta perché tu porti via supply e la tieni ferma in quella cassafortina immaginaria se al contrario viene gestita male perché si decide di dare ricompense troppo alte che poi non sono sostenibili e così via allora può diventare un problema perché vai a liberare liquidità e è come se avesse una botta di liquidità immessa a mercato in una volta sola o comunque in breve tempo era successo se non ricordo male un po' di tempo fa quando avevano cambiato all'inizio i requisiti di staking per la prima volta per la carta andandoli a diminuire ma sempre in cro prima del passaggio in euro il passaggio in euro ripeto è stata una buona mossa secondo me perché va a stabilizzare anche nel tempo il valore evitando queste botte ecco non so se vi ricordate quello che c'era stato quindi di fatto la risposta alla domanda è è un buon investimento se io credo che nel tempo aumenterà il numero di utenti nell'ecosistema crypto.com nonché l'utilizzo della chronos chain se penso che invece queste due cose andranno diminuendo allora io per me non deve essere un buon investimento personalmente vedendo come si sta muovendo crypto.com chiaramente questi non sono consigli finanziari ma solo mie personali opinioni vedendo gli investimenti che fanno per il marketing per l'onboarding di nuovi clienti e quant'altro e vedendo che di fatto i nuovi clienti continuano ad arrivare io penso che nel quantomeno nel medio termine sicuramente il valore intrinseco incrementerà anche la chronos chain è in fase di crescita ci sono tanti protocolli in arrivo e il tvl adesso si è stabilizzato dopo i primi protocolli lanciati ma appunto ci sono altri protocolli in coda e di conseguenza penso che incrementerà anch'esso però ripeto questo è un mio pensiero voi dovete avere il vostro ma i dati oggettivi sui quali basarsi secondo me sono questi sono tutti dati misurabili e ottenibili sarebbe bello avere anche i dati sul numero di utenti nel tempo di carte create nel tempo e così via però chissà magari un giorno crypto.com farà anche una sorta di report per gli investitori sarebbe interessante perché ci darebbe modo ancora di più di valutare nel tempo quello che è il loro valore intrinseco a questo punto io vi domando cosa ne pensate qual è secondo voi il valore intrinseco di cro scenderà salirà ditemi la vostra nei commenti che ci confrontiamo io vi faccio un carissimo saluto e state sempre sul pezzo e alla prossima e alla prossima Grazie.